Questo è l'ora, eh? Eh, non ci stanno muovendo! Questo carico ha fatto il treno delle miniere! Mamma mia, no! Perché ci volevo di qui! E no, perché andare qui? Andiamo! No, 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 no! E vieni! Vieni, vieni! Ma no, no! Ma no, no! Ma no, no! E dai, che cazzo! Dai, fai la ricetta, però, eh? Andrà bene! Fai qualche cosa! Spugna questa cosa è facile! Non so come fare! Facci scendere! Vogliamo scendere! Ma non esiste, bro! Ma le fai... Ferma! Ferma! Ma no! Hai venuto qualcosa? Hai venuto qualcosa? Vai! Va bene! Giro! Va bene! Ok! Madonna, che smantita! Sta correndo lo strumento! Sta correndo di più! Ok! Perfetto! Grazie! Ma hai giocato? Ma che giocato? La macchina è aperta! Sani, ricordi! Perfetto! Sta la registrando! Sta la registrando! Sta la registrando tutto! Mamma mia! Mamma mia! Com'è? E' un casino! Di là l'uscita? Deve uscire di là! Come si fa? E' un casino però uscire! E' un casino! Mamma mia! Non vede che è venuto! Mi sa che non vede! Siamo venuti anche qui al Tokaido! E' un casino! E' un casino!